Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parleremo di Christian Bale. Christian Bale non è solo uno degli attori più bravi al mondo, ma è anche il re delle trasformazioni nel mondo del cinema. C'è poco da dire. Chi è che non conosce Christian Bale? Chi è che non ha visto Il Cavaliere Oscuro? Uno dei film più belli in assoluto, a mio avviso. E anche American Psycho. Se non hai visto American Psycho, dopo questo video, io ti straconsiglio di andartelo a vedere. Fidati di me. Christian Bale è un maestro nella trasformazione. Ha guadagnato peso, perso peso, messo su muscoli, perso muscoli, si è rasato addirittura la testa. Sì, Christian Bale ha fatto di tutto pur di calzare a pennello nel ruolo che doveva recitare. Iniziamo da American Psycho, un film del 2000. Christian Bale qui ha, a mio avviso, il fisico più bello di tutta la sua carriera. Qui possiamo vedere un bel fisico, molto definito, ma allo stesso tempo con delle belle masse muscolari. La maggior parte delle persone sarebbero pronte a metterci la firma per avere un fisico del genere. Belle spalle, bel pettorale, addome in vista. Ma la trasformazione più folle dell'attore in questione avviene nel 2004, dove lui recita per il film L'Uomo Senza Sonno. Ragazzi, l'attore in questione qui, ovvero Christian Bale, pesava la bellezza di 55 kg. 55 kg per 1,83 m. Christian Bale sì, è alto 1,83 m. E la dieta di Christian Bale era acqua, una mela e una terza di caffè al giorno. Era tutto ciò che mangiava e beveva, ovviamente, per raggiungere la bellezza di 55 kg. E non è tutto. Secondo quanto riferito, i produttori del film hanno anche affermato che Bale voleva effettivamente perdere più peso. L'attore voleva scendere a 100 libri. Quindi, a meno di 50 kg, a 45 kg voleva scendere. Un follia! Ma, fortunatamente, non glielo hanno permesso. Perché, ragazzi, quando vediamo L'Uomo Senza Ombra, cioè, cosa possiamo vedere? Ovviamente è un fisico poco, poco, poco salutare. E adesso arriva il bello. L'Uomo Senza Ombra, 2004. Christian Bale doveva giocare Batman Begins nel 2005. Recitare un bellissimo film. Ma, raga, ovviamente, non è che te vai a prendere un fisico come L'Uomo Senza Ombra che pesa 55 kg e lo metti a far supereroe, come Batman. Quindi, cosa gli hanno detto? Devi prendere più massa possibile per giocare questo ruolo. Dice che ha guadagnato peso mangiando pizza e gelato. E lui stesso afferma, ho esagerato perché mi stavo divertendo a rimpinzarmi. Mi sono appassionato alla pizza e al gelato. Grandissimo Bale, uno di noi. E ho mangiato cinque pasti in una seduta. Il bello è che Christian Bale ha mangiato così tanto ad arrivare alla bellezza di 230 libri, ovvero 105 kg. Ed era un po' troppo cicciottello. Gli hanno detto, non è possibile, Bale, dobbiamo vedere un po' più di muscoli. Quindi ha seguito nuovamente una dieta dove ha perso più o meno 30 libri. Ed è arrivato al peso di 85-86 kg per giocare il ruolo di Batman Begins. Batman Begins, possiamo dire, è un atto gran bel fisico. Non estremamente definito come in quello di American Psycho, ma con più masse muscolari. Un altro fisico dove la maggior parte delle persone sarebbero pronte a metterci la firma. E la maggior parte delle persone, ragazzi, che non biasimo, non posso biasimare, dicono che Christian Bale si sia aiutato con degli steroidi, dei farmaci, per raggiungere una tale trasformazione da 55 kg a praticamente, sì, 86 kg, ma in pochi mesi, in otto mesi. In seguito l'attore Christian Bale ha avuto anche trasformazioni divertenti, possiamo dire, per recitare film come American Hustle e Vice, dove lo vediamo cicciottello, tra virgolette. Che mi dici? Ti voglio come Vice Presidente. Io, George Bush, voglio te. Io ti ringrazio. E dice che è passato da 85 libri a 228 libri, quindi ha guadagnato la bellezza di 40 libri, ragazzi. 230 libri sono più o meno, sì, 105 kg per giocare questi ruoli, ma 105 kg di panza. E lui stesso afferma che mangiava tante torte, tante ciambelle, e addirittura per recitare il ruolo di Vice ha dovuto fare esercizi per ispessire il collo. Io ecco perché adoro, adoro Bale. Lui è pronto a fare di tutto pur di calzare a pennello nel ruolo in cui deve recitare. Addirittura ad ispessire il collo per sembrare tipo, come Presidente, ecco, cicciottelli, perdonatemi il termine, ma come potete vedere nel film Vice, qui ha letteralmente cambiato, cioè non lo possiamo riconoscere. È irriconoscibile. Ragazzi, questo qui, sì, ha fatto Batman. L'ultima folle trasformazione di Christian Bale è nel film Ford contro Ferrari. Il co-protagonista di Bale, ovvero Matt Damon, è rimasto sbalordito dalla perdita di peso di ben 70 libri di Christian Bale. 70 libri, ragazzi, sono 31 kg, poco più di 31 kg. Ma quando Damon gli ha chiesto come ha fatto, ha ottenuto una risposta molto coincisa. Mi ha semplicemente guardato e mi ha detto, non ho mangiato. Tutto qua. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate al video, lasciate un commento, un like, sempre molto gradito. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, delle foglie trasformazioni di questo fantastico attore. Io adoro, sono un enorme fan di Christian Bale. Iscriviti al canale. Come al solito, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. Vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao, ragazzi!